Allora, questa è la terza parte dell'elenco delle date principali della storia medievale e adesso andremo a presentare quello che è l'Alto Medioevo, che in realtà l'Alto Medioevo, abbiamo fatto già il discorso, è molto più ampio di questi due secoli, cioè va fino all'anno 1000, però in realtà questa è la distinzione che viene presentata nel libro, anche per chi non ce la farei a fare tipo cinque secoli in un video e quindi mi aiutano per fare i video più ristretti. Comunque in realtà questo sarà molto lungo degli altri perché sono successe molte cose, poi soprattutto nel Medioevo pure, quindi tutte le dinamiche che abbiamo visto prima si vengono ad esplicare in maniera più coerente. Dunque, eravamo arrivati al secolo VIII, quindi al 700, e il primo evento rilevante, nel 711, c'è l'invasione araba che arriverà in Africa, gli alibi arriveranno in Africa mettendo fine a quello che era il regno dei Visigoti e poi arriveranno fino a Gibraltar. Nel 712, qua stiamo parlando di Longobardi, c'è il re Lutprando che è uno dei più importanti re Longobardi e completa la conversione dei Longobardi al Cattolicesimo, abbiamo visto prima che c'era Dodardo che era, cioè prima non so dove l'avevo messo, comunque che si era convertito al Cattolicesimo ma non aveva comportato una conversione di massa. Nel 714 gli arabi arrivano sull'Indo, qua ecco nel 718 c'è l'ultima sedia di Costantinopoli da parte degli arabi, non perché si stiano fermando ma perché basta Costantinopoli, non si prende per il momento. Nel 728, sempre Lutprando Longobardo, li consegna, e questa è una cosa importante, il castello di Sutri non ai bizantini ma alla chiesa romana. E questa che passerà alla storia come donazione di Sutri è un momento importante per quanto riguarda proprio l'atto costitutivo del potere temporale dei papi. Inizierà a costituirsi in questi momenti l'idea, e non ancora di fatto la presenza, di uno stato della chiesa. Nel 730 invece l'imperatore bizantino Leone III e Saurico fa un promulgamento ditto che prevede l'iconoclasmo, ovvero la distruzione delle immagini sacre e dell'adorazione delle immagini. Nel 731 Papa Gregorio III invece si oppone a questo movimento dell'iclonoclastia e scomunica Leone III. Nel 732 c'è una battaglia, la battaglia di Potier, che segna la fine dell'espansione turca, non al di là dei Pirenei, ecco se da quella parte Carlo Martello riesce a fermare gli arabi, e vabbè, comunque è stata anche un po' ridimensionata la portata storica di questa battaglia. Nel 737 muore il re Merovingio Tutturico IV, quindi Carlo Martello, il protagonista delle battaglie di Potier, oh mamma, sono andata troppo avanti, viene considerato come se fosse un re, ecco sono andata troppo avanti, eccoci. Poi nel 747 Carlo Mano, il figlio di Carlo Martello, abdica e si ritira nel monastero di Monte Cassino, quindi rimarrà soltanto Pipino. 749 gli abassidi prendono potere e sconfighiono il califo Omaide, e quindi c'è un cambio di dinastia in quel panorama mondiale. Invece per tornare all'Europa, nel 750 il re Longobardo Astolfo prevede una distinzione per quello che è il servizio militare, che non era più in base all'etnia, cioè soltanto i Longobardi potevano farlo, ma tutti quanti però in base alla ricchezza. E poi questo invece c'è un elemento importante, nel 750 c'è Pipino e Breve, che chiede a, sì è un evento anche importante effettivamente, Pipino e Breve chiede al Papa Zaccaria se il re è colui che ne ha il titolo o chi ne detiene il potere effettivo. Papa Zaccaria dice che è colui che ne detiene il potere effettivo e quindi c'è teoricamente Pipino e Breve, non il re chiede di che dovrebbe essere colui che governa. E questo, ecco, passiamo subito a questo evento che è collegato a questo, c'è nel 771, quindi Pipino si fa acclamare il re da un'assemblea di grandi a Sonson e viene unto da Bonifacio, che era un predicatore missionario. E invece il nostro Stolfo Longobardo conquista Ravenna e il Ducato di Spoleto, puntando questa volta su Roma. Ovviamente, ecco, il Papa è preoccupato, vabbè, sempre questo Bonifacio, nel 754, viene ucciso dai deflisioni e intanto, vabbè, ho detto che il Papa era preoccupato e quindi va in Francia per chiedere aiuto a Pipino contro i Longobardi. Questo, intanto, che in Francia c'è Pipino che fa consacrare al Pontefice Carlo e Carlo Magno e Pipino viene consacrato come Patrizio dei Lomani, ovvero il protettore della Chiesa Romana. Pipino mantiene le sue promesse e nel 755 scende in Italia, in questo momento viene probabilmente redatta la falsa donazione di Costantino perché Pipino convince Stolfo a consegnare la velna a Papa Stefano II e questo è l'atto proprio fondativo di quello che lo Stato della Chiesa che abbiamo visto inizia a nascere nella sua idea già con la donazione di Sutri da parte di Lutbranto e siamo nel 755. Nel 756 la Spagna viene presa dagli arabi certo questo è già successo però viene considerata più indipendente rispetto all'Arabia quindi il potere centrale a il re Longobardo Stolfo succede desiderio e i figli di Pipino Carlo Magno e Carlo vengono fatti sposare dalle principesse Longobardi che alberga per Carlo Magno ed Ermen Galda per Carlo Nel 757 muore Papa Stefano che aveva consagrato i due fratelli nel 762 viene fondato Bagdad che avrà un ruolo importante successivamente come capitale del califato e nel 768 muore Pipino in breve nel 771 muore anche il successore Carlo Magno che era il fratello di Carlo Magno quindi Carlo Carlo Magno è da solo al potere e decide che è tempo di occuparsi dei Longobardi e quindi Tripudia e Armengalda Nel 773 Carlo scende in Italia e va a una battaglia di Val di Susa dove Desiderio perde e Carlo vince e quindi si ha la sedia a Pavia che dureranno molto dieci mesi perché Desiderio si era rifugiato lì Carlo riesce a farlo prigioniere e lo porta in Francia mentre il figlio Adelchi il figlio di Desiderio Adelchi si rifugge nell'impero d'Oriente Nel 774 Adelchi cinge a Pavia la corona dei Longobardi anche se non sarà nulla di effettivo perché comunque nel 776 c'è Carlo che affida all'Italia al figlio Pino che sarà quindi lui il re d'Italia Nel 778 Carlo spunta l'obiettivo dall'Italia lo sposta alla Spagna conquistando Plomplona e soltanto che perde questo non ho messo comunque c'è la sede di Saragossa che lo costringe insomma a molte fatiche ma giunge notizia di una rivolta dei Sassoni e perciò Carlo è costretto di tornare indietro però la retroguardia in questa ritirata subisce un'imprescata a Ronsisval e muore il paladino Rolando o Orlando che sarà poi cantato dalle celebri canzoni nel 784 c'è una rivolta in Frisia e quindi anche il territorio della Frisia sconfitti vengono incorporati nel di Carlo a Bizanzio viene convocato un patriarca iconodulo cioè che approva comunque la presenza delle immagini e quindi c'è il contoro di iconoclasmo e infatti nel 789 nel settimo concilio ecumenico di Nucea viene condannato l'iconoclasmo come eresia nel 788 Carlo sconfigge il duca Tassilone di Baviera e quindi Carlo riesce ad incorporare nel suo dominio anche l'Austria nel 797 a Costantinopoli l'imperatrice Irene fa accecare e imprigionare il figlio Costantino IV quindi diventa padrone assoluta di Costantinopoli contrastata ovviamente e intanto nel 799 il Papa Papa Leone III viene imprigionato nel monastero di Sant'Erasmo e viene liberato soltanto da due missi franchi che insomma lo riescono a liberare e allora Papa Leone III andrà fino a Paderborn a implorare l'aiuto di Carlo ecco Leone III era stato incarcerato per motivi politici possiamo dire perché per delle ecco c'è anche l'allarme per delle sbagli ecco nella sua politica e quindi arriverà fino a Paderborn a chiedere aiuto ecco ed eccoci quindi arrivati all'evento fondamentale e insomma una data molto importante che è quella dell'Ottocento Carlo arriva con Papa Leone III a Roma cioè arriva a Roma dove sta Papa Leone III il 24 novembre il primo dicembre decide di di convocare una grande assemblea di prelati laici con l'obiettivo di giudicare la vera colpevolezza o la non colpevolezza di Leone III in realtà si sa che la soluzione deve essere la non è colpevole si cerca di fare in modo che non sia colpevole infatti il 23 novembre Leone III giura la propria innocenza e nel Natale dell'Ottocento Carlo viene coronato e acclamato imperatore San Pietro da Leone III quindi Carlo è diventato imperatore se appunto vado veloce senza focalizzarmi su questi eventi importanti però ecco questo evento importante nell'Ottocento II viene deposta l'imperatrice Irene considerata da Carlo e dal Papa come una dottoropatrice e l'imperatore d'Oriente diventa di Ceforo nel 1806 Carlo promulga la divisione del regno che prevede che al figlio Carlo vada la Francia e l'Oriente a Lodovico che va dall'Aquitania e a Pepino l'Italia e la Baviera in realtà questi figli poi moriranno tutti a parte Lodovico quindi c'è poco da fare nel 1811 l'imperatore d'Oriente Michele I riconosce l'imperatore Carlo in cambio dell'istra dell'Ara quindi abbiamo anche un riconoscimento che non è arrivato da parte di Diceforo anche dell'imperatore Carlo qua nel 1813 viene creato un nuovo distratto di confine la Marcha Espanica con capitale Barcellona quindi anche date da queste vittorie contro gli arabi e invece d'Oriente si ritorna all'iconoclasmo alla distrazione delle immagini con l'imperatore bizantino Leone quinto e poi nell'814 il nostro grande Carlo Magno muore e diventa imperatore il figlio l'unico figlio rimasto ormai Ludovico il Pio adesso dobbiamo un attimo perché bisogna fare una pausa di tristezza la morte di Carlo Magno eccoci e cosa succede? anche Ludovico il Pio deve occuparsi della sua successione e nell'817 promulgherà l'ordinazio imperio l'ordinazio imperi dove stabilisce l'individuità dell'impero che però sarà assegnato cioè non diviso però tre parti sono assegnate a tre figli l'otario è l'insegnante del potere imperiale e l'Italia è la parte centrale dell'impero e Pipino e Ludovico il Germanico vengono assegnati dei territori periferici e poi Pipino morirà e verrà sostituito però comunque ecco questo succederà dopo la morte di Ludovico il Pio nell'824 viene promulgata anche la Costituzione romana dove secondo Ludovico il Papa doveva prestare giuramento all'imperatore e nel 1831 ecco c'è prima insomma sta arrivando ecco la conquista degli arabi della Sicilia nel 1831 gli arabi prendono Palermo che prima era un centro soltanto di secondaria importanza e poi diventerà molto più importante proprio per la conquista degli arabi ecco poi qua abbiamo nel 1838 appunto Pipino che aveva il territorio della Francia che muore e ci succede Carlo il Calvo nell'841 abbiamo un'incursione stracena degli arabi a Capo quindi insomma stanno anche risalendo la Sicilia l'imperatore Ludovico II questo è un evento molto interessante libera Bari e fa prigioniero l'affascinante Emilio Sautan Sautan però questo succede che il principe di Benevento Adelchi fa degli accorti con Sautan e fa prigioniere l'imperatore lo stesso Ludovico II che viene liberato soltanto dopo 40 giorni facendoci promettere di non vendicarsi ecco questo un evento che suscita molto scalpore di Adelchi che fa patti con con Lemiro Nell'842 anche qua sono due dati molto importanti perché c'è anche a livello linguistico il trattato di Strasburgo un patto tra il re Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo mentre nell'843 c'è il trattato di Verdun dove quello che viene stabilito nel trattato di Strasburgo viene quindi dalla divisione dell'ampero viene imposta anche all'Ottario Per fortuna ecco qua abbiamo il culto delle immagini che crea sempre molto molti dibattiti in Oriente viene riammesso dall'implici di attrice bizantina Teodora e ecco e poi sotto l'imperatore serve Michele III però anche qua un evento importante l'846 viene Roma viene saccheggiata dai Saraceni portando danni anche a San Pietro 1855 a Lotario succede il figlio Ludovico II ecco qua poi nell'858 il patriarca Fozio viene va contro quello che è il celluloparpismo ma non funziona ormai la situazione era già consolidata nell'8660 la Costantinopoli è traccata da Uriussi qua stiamo anche nominando delle nuove popolazioni che non avevamo preso in considerazione prima nell'864 al concilio di Costantinopoli il patriarca di Costantinopoli Fozio fa scomunicare Papa Nicolò I per la disputa del Filocque che anche qua insieme alla questione dell'immagine aveva da l'Oriente aveva da ridire all'Occidente e viene anche sottomessa la chiesa bulgara vabbè intanto Venezia blocca Taranto le navi saracene nel 1836 muore anche Ludovico II e quindi il titolo imperiale andrà l'unico Carlo il Calvo che aveva già i territori della Francia poi nel 1877 Carlo il Calvo promulga il capitalare di Quersi che stabilisce l'eredità dell'ereditarietà del feudo al figlio soltanto in caso di morte provvisoria del padre in battaglia però avrà grandi conseguenze per il futuro ok Carlo il Calvo fa anche una spedizione in Italia contro i saraceni nell'878 gli arabi prendono Siracusa nel 883 i saraceni distruggono Monte Cassino una delle tantissime volte che verrà distrutta nell'844 muore Carlo il Calvo e succede a Carlo il Calvo il figlio di Ludovico ovvero Carlo che diventerà l'unico imperatore alla morte degli altri re dell'antico impero di Carlo Magno che sembra un po' come ristabilito ma durò molto poco perché nell'887 è costretto ad abdicare perché aveva pagato una grossa somma per cacciare i vichinghi e questo era stato considerato come un atteggiamento indignitoso quindi abdicando lascia come sempre l'impero diviso in tre parti la parte orientale la Germania verrà data ad Alfonso di Carizia la Francia a Odone e l'Italia a Berengario Manchese del Friuli l'Italia avrà una storia molto complicata e molto intensa perché Berengario del Friuli viene sostituito spottestato da molti altri pretendenti nel 1889 c'è Ludovico cioè Guido Duca di Spoleto nel 1898 succede il figlio Lamberto qua abbiamo nel 1896 gli Ungari che sono questa nuova popolazione che nuova insomma popolazione che stava facendo soffrire molte popolazioni europee che scende dalle stesse perusse e si stabilisce in Pannonia e non rimarrà lì ferma ma andrà a fare delle ricursi di varie come vedremo dopo Arnulfo viene fatto imperatore da Papa Famoso nel 1898 Lamberto il figlio del Duca di Spoleto viene sconfitto dall'imperatore Arnulfo di Carizia nel 1899 gli Ungari sono addirittura dalla Pannonia che erano prima sono già sotto Pavia e in questo momento muore Lamberto e quindi riemerge il nostro berengario marchese del Friuli nel 1902 i saraceni finiscono di conquistare la Sicilia nel 1907 i russi attaccano Costantinopoli mentre nel 1910 viene viene fondata la Bazzetta di Cluny dal Duca Guglielmo d'Aquitania e dalla Bazzetta di Brunone quindi un evento anche diverso di queste guerre nel 1911 il re Carlo Semplice confede anche questo è un momento importante facciamo così perché Carlo Semplice concede il feudo di quella che è l'attuale Normandia al re vichingo Rollone quindi sono i vichinghi normanni e hanno questa parte della Francia che è concessa a loro e da lì si espanderanno sempre di più nel 1919 abbiamo Enrico Uccellatore di Sassonia che sarà importante per le sue battaglie e per i suoi successori nel 984 viene sostituito a Berengario che è definitivamente di scena Rodolfo di Borgogna nel 926 viene sostituito Ugo di Provenza Ugo di Provenza qua c'è una storia nel 932 con la discussa Marozza Tuscolo una delle più importanti famiglie di Roma famiglia di Papi finché abbiamo una vittoria da parte di Enrico Luce Latore contro gli Ungari che abbiamo visto che stavano sempre di più facendo paura all'Europa nella battaglia ti liede Enrico Luce Latore si trova un degno successore che succede nel 936 questo è Ottone Fesasso Ottone primo ecco qua gli Ungari non si sono formati perché nel 937 nonostante la sconfitta di Enrico Luce Latore raggiungono intorno di Parigi nel 938 c'è una una rivolta dei duchi di Lorena Franconia e Baviera che permetterà ad Ottone primo cioè Ottone primo è costretto a fare pace con il fratello per evitare tutte queste rivolte nel 943 gli Ungari raggiungono la Spagna e intanto a Bisanzio nel 944 c'è l'imperatore romano Lecapeno che riconquista Edessa e quindi stiamo dopo tutto il territorio che avevano perso dal tempo di Eraclio stanno riuscendo a riconquistarli gli abitanti vengono di nuovo convertiti al cristianesimo e poi fa un trattato tra Bisanzio e i principi di Kiev nel 950 la corona di Red Italia venne passata a Berengario il Marchese di Ivrea che però già nel 951 Ottone spodesterà Berengario e assumerà il titolo di Red Italia Nel 954 il figlio Landulfo si ribella ad Ottone e anche il genero Corrado Rosso e intanto Ottone deve anche affrontare gli Ungari che raggiungono il Belgio quindi molto vicino ai territori della sua giurisdizione e quindi data importante 955 c'è la battaglia del fiume Lec presso Augusta dove Ottone I sconfigge definitivamente gli Ungari che poi sconfitti in quella Pannone e la Tala Ingria dal nome si convertono al cristianesimo continuano anche le conquiste da parte dell'impero romano d'Oriente nel 961 l'impero bizantino Cefro e Foca riconquista Creta e poi riconquisterà anche Siria ed Antiochia 962 data fondamentale della nostra storia abbiamo l'incoronazione di Ottone I in San Pietro da Papa Giovanni II anche se questa unione tra Ottone e Giovanni durerà poco perché subito dopo dichiarerà decaduto Giovanni XII e promulgerà quello che è il privilegio Mutonis dove dirà che è l'imperatore che deve giudicare il Papa prima della consacrazione e quindi che il potere temporale di Ottone è superiore a quello temporale spirituale di Giovanni cioè del Papa quindi anche di Giovanni XII e quindi questo è insomma dall'incoronazione anche da questo primi legge possiamo dire che nasce il sacro romano impero come quello di Carlo Magno però germanico di nazione germanica perché ci siamo spostati ci siamo spostati lì Ottone nel 1966 ovviamente vuole farsi riconoscere anche dall'imperatore d'Oriente di Cefro Foca ma non ce la fa ce la farà soltanto nel 972 a farsi riconoscere l'imperatore da un altro da un altro imperatore bizantino ovvero Giovanni Zimisce e Giovanni Zimisce per consolidare di più il rapporto con Ottone gli fa sposare la figlia e qui abbiamo quindi una forma di traslato imperi che la stessa si sposta dalla Germania a Roma a Bisanzio alla Germania ecco nel 1973 abbiamo una delle sconfitte degli arabi un inizio molto timido di riconquista della Spagna da parte del marchese di Torino e del conte di Provenza che riescono a vincere un'arribata araba a Saint-Tropez poi muore Ottone I sempre nel 973 e gli succederà il figlio Ottone II intanto nel 989 viene fondato al Cairo nel 981 muore Pandolfo I Capodiferro che aveva cercato di unire i territori dell'Italia meridionale partendo dai territori Longobardi ma questo suo dativo di unione è fallito alla sua morte e anche ad Ottone II le cose non vanno molto bene perché nel 982 viene sconfitto dai sediceni a Stio che si trova in Calabria nel 983 quindi l'anno dopo addirittura Ottone II muore e gli succederà Ottone III il figlio che però era molto piccolo e quindi per il momento viene viene il suo impero viene viene dato in mano alla madre Teofane che era la figlia di Giovanni Zemisce è la nonna Delaide e il maestro Gerberto Dojac che diventerà Papa Silvestro II Abbiamo anche in Francia un cambiamento perché nel 789 si estingue la famiglia dei Robertingi diventerà re Ugopetio e quindi abbiamo una nuova dinastia la dinastia Capitingia nel 989 per spostarsi proprio geograficamente di molto abbiamo il principe di Kiev Vladimir che si converte al cristianesimo e quindi susciterà una conversione al cristianesimo anche al cristianesimo di forma orientale di forma bizantina anche degli altri abitanti gli abitanti di Kiev e finché nel 999 non finisce il mondo ma diventa Papa appunto Gerberto Dojac con il nome di Silvestro II e ci sarà una sollevazione di fedotari italiani contro Ottone III guidata da Arduino di Ivrea e abbiamo anche questo lo vedremo poi nel prossimo capitolo quello che si parla del pieno medievo la prima apparizione dei normanni in Italia e questa insomma sarà una storia che approfondiremo poi poi